Nel video su Classroom abbiamo visto che si può assegnare un compito tramite moduli. Vediamo allora come funziona. Allora cliccando sull'immagine del modulo vado direttamente all'applicazione moduli che si presenta così. Per prima cosa clicco e scrivo il titolo. Poi riporto il titolo anche in alto a sinistra. La cosa importante è che ogni cosa che faccio viene salvata automaticamente nella mia cartella di Drive. Quindi non ho bisogno durante la predisposizione del modulo di andare a salvare. Perché automaticamente tutte le volte che scrivo qualcosa il mio modulo viene aggiornato e salvato nella mia cartella. Ecco qua. Il modulo che sto facendo adesso lo ritrovo in Drive. Vedete che nella classe prova io ritrovo questo che è il modulo che ho appena aperto in questo momento. E questa che è l'immagine che avevo utilizzato come esempio da legare al compito su Classroom. Va bene. Torniamo al modulo. Allora nel modulo io posso impostare varie tipologie di domande. Le domande si scelgono nel pulsante a destra e per cominciare a vedere un po' come funziona scelgo quella che viene chiamata risposta breve. Digito la domanda e in questo caso siccome la risposta è una sola parola io posso impostare la chiave di risposta. Cioè in pratica scrivo qual è la risposta giusta in modo che il mio modulo quando il mio alunno digita la risposta corregge automaticamente e quindi vede se la risposta è giusta o è sbagliata. Allora scrivo la risposta corretta. Poi sempre da questa finestra posso stabilire un punteggio, quanto vale la risposta corretta e poi posso anche mandare un feedback al mio alunno. Se clicco su aggiungi feedback posso scrivere un messaggio. Bravo se ha risposto correttamente. Ecco come appaiono i miei dati ricapitolati. Bene, adesso aggiungiamo un'altra domanda cliccando sul pulsantino con la crocetta più e scelgo questa volta la risposta paragrafo. Cioè in pratica una risposta che mi permette di scrivere più cose. In questo caso l'alunno ha più spazio per poter digitare la sua risposta. Se invece voglio fare delle domande tipo invalsi sceglierò scelta multipla ed ecco come viene impostata la domanda. Allora io faccio la domanda, il passato remoto di leggere è, poi ogni possibilità scrivo una risposta, ovviamente ce ne sarà una giusta e tutte le altre sono sbagliate. Clicco aggiungi altro, mi si apre una seconda opzione. Quindi io posso aggiungere tutte le risposte che voglio e alla fine mi compare questo. Quindi qui c'è la mia domanda, qui c'è una serie di scelte all'interno delle quali l'alunno clicca sulla risposta che ritiene giusta. Anche in questo caso io darò la chiave di risposta. Oppure, nel caso io preveda una domanda a cui l'alunno può dare più risposte, ad esempio quali sono i tuoi colori preferiti, l'alunno potrebbe rispondere giallo ma anche rosso. Mentre prima il tempo del verbo corretto era uno solo, io qui devo lasciare la possibilità di dare due o più risposte. Allora, anziché scegliere scelta multipla, sceglierò casella di controllo. Anche in questo caso io posso mettere tutte le risposte che voglio, basta cliccare su aggiungi altro. Un'altra modalità di risposta è l'elenco a discesa. Apre un menu a tendina all'interno del quale lo studente può scegliere la risposta. Posso utilizzare invece una scala lineare per sondare un gradimento all'interno della classe, cioè in questo caso quanto ti è piaciuto il film da 1 a 5. E quindi l'alunno, scegliendo un numero, mi sta dicendo il livello del suo gradimento. Infine, posso anche creare una griglia a scelta multipla per ottenere delle informazioni su più richieste contemporaneamente. Compilo le righe, compilo le colonne e poi chiedo obbligatoriamente di dare una risposta ad ogni richiesta. Quindi, quali generi letterari ami leggere? Genere giallo? Sì, no o non lo so? Ecco, attivando questo pulsante io chiedo all'alunno di dare necessariamente una scelta. Non può saltare, non può non scrivere niente. Ecco come comparirà la mia griglia completa. Dopo aver strutturato una domanda magari un po' complessa, adesso io qui ho fatto un esempio molto semplice, però potrei aver strutturato una domanda per cui ho impiegato un po' di tempo per prepararla. E ho bisogno di farne un'altra dello stesso tipo su un altro argomento. Non è necessario che io ripeta tutto da capo. Posso semplicemente duplicare la domanda. Cliccando su questo pulsante mi viene riproposta la stessa domanda e io posso intervenire semplicemente cambiando la richiesta. Invece, se cambio idea, elimino completamente la domanda cliccando sul cestino. In qualsiasi momento io posso accedere all'anteprima. L'anteprima mi permette di vedere che aspetto avrà il mio modulo una volta che io ho terminato di preparare le domande. Queste sono le domande che abbiamo preparato prima. Allora, io qua ho scritto rispondi correttamente a tutte le domande. A ogni domanda ho attivato il pulsantino risposta obbligatoria. E infatti mi viene spiegato che tutte le volte che c'è l'asterisco significa che io non posso saltare la domanda. Questa è la domanda con la risposta breve, qui c'è quella con la risposta lunga, qui c'è la scelta multipla che mi permette di dare una sola risposta, qui posso rispondere di più, qui c'è il menu a tendina. L'alunno cliccherà qua e scenderanno le opzioni. Questa è la scala lineare per rilevare il gradimento e questa è la griglia all'interno della quale per ogni richiesta si può esprimere un parere diverso. Per uscire dall'anteprima clicco sulla matitina e ritorno al mio modulo. Dalla pagina iniziale è possibile anche cambiare l'aspetto del modulo. Io clicco sulla tavolozza e qui ho una serie di opzioni. Posso ad esempio scegliere un'immagine che mi comparirà qui sulla prima pagina. Posso cambiare il colore del modulo, posso cambiare il colore dello sfondo, che è questo qua. Se invece clicco sui tre pontini mi si aprono delle altre possibilità. Posso creare una copia del modulo, posso buttarla nel cestino, posso generare un link che poi condivido e quindi chi clicca quel link si ritrova il compito, il modulo. Posso anche stampare una copia delle mie domande. Ecco, quello che abbiamo visto fino qui sono ovviamente le funzioni base, le funzioni minime. Se per ora è tutto chiaro ne aggiungo una che può essere veramente interessante. Allora, dopo aver preparato la domanda, io posso anche inserire un'immagine o un video cliccando su questi pulsanti qui a fianco. Allora, diciamo che voglio aggiungere un'immagine che potrebbe essere utile per far dare al mio alunno una risposta corretta. Io scelgo l'immagine che magari ho già preparato sul mio computer, la trascino e mi comparirà all'interno della domanda. Vedete, qui c'è la domanda e qui ho l'immagine. Dopodiché qui sotto l'alunno può digitare la sua risposta. Ovviamente il procedimento per aggiungere un video è assolutamente identico. Se ho inserito il punteggio della risposta, lo trovo qua. Qua mi dà il punteggio totale di tutte le risposte del mio compito. Bene, allora il mio compito è pronto. Mi basta cliccare sul pulsante invia e il modulo verrà inviato automaticamente a tutti i miei studenti. Allora, dopo che ho mandato il compito, devo stabilire però come faccio a raccogliere le risposte dei miei alunni. Allora, clicco su risposte e intanto posso stabilire quando smettere di accettare le risposte inviate dai ragazzi. Cioè io posso stabilire che il compito ha una data di scadenza. Oltre quella data di scadenza, se io sposto il bottoncino, le risposte non sono più accettate. Quindi i ritardatari praticamente rimangono a piedi. Invece, quest'altra funzione è molto importante perché mi permette di raccogliere automaticamente tutte le risposte in un foglio di lavoro. Quindi il sistema cosa fa? Raccoglie tutte le risposte e le tabula. Le tabula già volendo mi crea anche dei grafici per valutare l'andamento delle risposte. Terminato tutto quanto, io avrò come al solito una copia del mio lavoro salvata in moduli, quindi salvata nell'applicazione. Eccola qua, compito. E sempre una copia salvata nel mio drive. Ecco qua, compito modificato oggi. In questo modo io nel tempo creo un archivio di lavori pronti che posso riutilizzare così come sono o semplicemente modificarli. Però è evidente che questo lavoro sarà sempre più veloce perché modificare una base già strutturata mi permette di spendere molto meno tempo che non ricominciare tutte le volte da capo. Grazie. 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 Grazie.